Musica Musica E anche oggi si parla di salute e di medicina, pillole di essere e benessere, bentrovati, abbiamo con noi in studio il dottor Daniele Sala, medico di medicina generale. Buongiorno, siete stati coinvolti in prima linea per questo anno e mezzo soprattutto con la pandemia e oggi il vostro ruolo è molto importante anche legato alla vaccinazione. Voi in particolare siete stati coinvolti dottore per la fascia 50-54 anni direttamente, come sta andando, come è andata? Va bene, le persone hanno aderito in buona percentuale quindi non ci sono stati problemi e poi c'è da dire che in realtà abbiamo vaccinato prima anche una buona parte dei nostri anziani a domicilio che per motivi diversi quindi perché o allettati o che per patologie croniche non riuscivano a spostarsi hanno avuto necessità appunto del vaccino a casa. Quindi anche lì si parla di numeri comunque buoni e quindi è andata bene. Com'è stata la risposta nella fascia 50-54? Beh, è stata una buona risposta nel senso che buona parte dei pazienti in questa fascia hanno risposto bene, cioè nel senso che si sono presentati e sono stati contenti anche di aver fatto il vaccino in ambulatorio. Tra l'altro insomma viene da dire che farlo dal proprio medico di base magari anche dal punto di vista psicologico può essere un aiuto. Beh sì, diciamo che c'è un rapporto chiaramente di fiducia e quindi questo sicuramente può aiutare sia magari nella fase anche di colloquio iniziale in cui parliamo di vaccini con i pazienti e chiaramente cerchiamo di rimere i loro dubbi, le loro perplessità sia nella fase appunto operativa in cui si fa in ambulatorio il vaccino. Quali sono le domande che vi pongono più di frequente adesso? Beh, allora diciamo che sicuramente la domanda classica è dottore posso fare il vaccino con le patologie che ho? Non è che vado incontro a rischi, più che altro la paura grossa è quella della trombosi nei pazienti. Diciamo che innanzitutto questo va a denotare che sicuramente c'è più timore forse da parte della popolazione del vaccino in sé che del fatto di contrarre l'infezione. Perché? Perché sicuramente anche quei rari eventi avversi, reazioni avverse da vaccino che sono state stressate dalla campagna stampa nazionale hanno un po' segnato la gente. Quindi effettivamente le paure sono queste e noi parliamo e cerchiamo di rimere i dubbi e spiegargli perché vaccinarsi. Spieghiamo quindi anche ai nostri telespettatori perché vaccinarsi e soprattutto quali sono appunto i rischi rispetto anche al non fare il vaccino. Allora diciamo che se vogliamo dare anche qualche dato il rischio di eventi avversi intesi come eventi che si verificano dopo la vaccinazione e dei quali non è ancora accertata la causalità diretta con il vaccino si attesta allo 0,018% mentre la mortalità, la letalità per covid è del 2% quindi si parla di dati che sono abbastanza chiari. Quindi i vaccini sono sicuri e vaccinarsi è molto importante, molto importante per sé e per gli altri. Per sé perché si riduce il rischio di contrarre l'infezione da covid che può portare a conseguenze anche molto gravi oltre all'exitus ma conseguenze molto gravi in caso di il cosiddetto long covid quindi conseguenze sull'apparato cardiovascolare a lungo termine che possono essere quindi molto impattanti anche sulla qualità di vita della gente quindi dal punto di vista respiratorio, cardiovascolare e neurologico. È importante anche per gli altri perché è fondamentale in questo momento ridurre la circolazione del virus. Quindi ridurre la circolazione del virus significa in parole povere non far girare il virus e quindi fare in modo che il virus non si propaghi e che non arrivi a quelle fasce della popolazione che anche per motivi magari di patologie, quindi magari patologie immunodepressive o farmaci immunodepressivi magari si sono vaccinati ma non hanno una risposta anticorpale efficiente. Quindi in questa maniera si protegge anche gli altri. Questo è molto importante. Ecco, immagino che in questi mesi ne avrete sentite un po' di vario genere. Tra l'altro è solo recente il fatto che AstraZeneca e Johnson & Johnson non si possano appunto dare agli under 60. Quindi possiamo dire anche alla popolazione che con Pfizer e Moderna, soprattutto per i più giovani, si vanno riducendo ulteriormente questi rischi. Sì, 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 parliamo comunque di effetti avversi molto rari. In tutti i casi, come ho detto prima, i vaccini sono sicuri, sono ben tollerati e quindi proteggono dal virus. E i rischi per chi non si vaccina quindi sono molti di più rispetto a chi viene vaccino? Sì, i rischi per chi non si vaccina sono di più e come dicevo anche prima non è prevedibile il tipo di reazione che una persona può avere contraendo il Covid, nel senso che non è direttamente correlata alle patologie che ha. Spesso si vedono anche pazienti che sviluppano forme molto aggressive, anche pur non avendo patologie. Quindi il fatto di dire io sono sano, non ho patologie, sto attento, non è sufficiente. Ecco, quindi sì, questo penso che sia una cosa importante da tenere a mente. Si parla molto, soprattutto in vista della ripartenza a settembre delle scuole, e dell'importanza che anche tutto il personale scolastico, il personale ATA sia vaccinato. Anche qui un ruolo importante lo avete avuto anche voi e probabilmente ce l'avrete ancora perché diceva anche il dottor Casaletti dell'Igiene Pubblica dell'Ausl che verranno date delle fasce specifiche per vaccinare proprio e convincere chi è rimasto, che ancora non l'ha fatto, farlo. Sì, sì, no, questo è molto importante anche per gli insegnanti, anche perché chiaramente essendo un lavoro a contatto diretto con i bambini, con le persone, in questa maniera ci si protegge di più e come dicevo prima si aiuta a non far circolare il virus che in questo momento adesso sta tornando a circolare e quindi è molto importante puntare sulla campagna vaccinale. Voi vi siete occupati anche degli insegnanti? Sì, ci siamo occupati anche degli insegnanti che abbiamo vaccinato a partire da marzo e anche in questo caso c'è stata una buona risposta da parte della popolazione. C'è qualcuno che si dimentica tra virgolette la seconda dose? Come fate in questo caso? Ma no, dimenticarsi no, però può capitare, è capitato che in certi casi di fronte anche magari a reazioni lievi come magari un po' di febbre il giorno dopo il paziente avesse avuto dei dubbi nel vaccinarsi con la seconda dose. Quindi in questo caso si è spiegato al paziente tutti i motivi per cui era fondamentale completare il ciclo vaccinale e quindi si è risolto la cosa. È molto bella questa cosa che mi diceva che è andato anche a casa dei suoi pazienti, quindi vaccinazione a domicilio. Come avviene questo su indicazioni precise che vengono date? Allora, noi abbiamo una fascia di pazienti più fragili che seguiamo a domicilio anche con l'assistenza domiciliare che teniamo monitorati anche ogni mese andando a casa del paziente. È chiaro che avendo presente questa fascia di popolazione sapevamo già chi erano i candidati alla vaccinazione e comunque diciamo che in tutti i casi questa fascia ha risposto particolarmente bene nel senso che erano proprio anche i pazienti che mi chiedevano prima che si programmasse la cosa quando andavo a fare il vaccino a domicilio. È stato importante. Il vostro lavoro senza dubbio è cambiato molto, anche perché nell'ultimo anno e mezzo come è cambiato? È cambiato che comunque la gente l'abbiamo sempre vista. Chiaramente cambiano le modalità d'accesso e si devono evitare quelli che sono gli affollamenti, si va rigorosamente per appuntamento, io seguiva anche prima però è una modalità quasi obbligatoria adesso e si invita i pazienti sempre anche a chiamare, telefonare per concordare gli accessi quindi in ambulatorio. Perciò anche le richieste, i consigli ai pazienti sono diventati sicuramente più importanti. Diciamo che la gente in questo momento ci contatta molto e ci contatta ancora di più di prima. Le chiedo infine, perché è un passaggio molto importante, come fare per evitare di tornare a avere un boom di casi, quindi accanto alla vaccinazione e anche ai comportamenti da rispettare? Allora è fondamentale anche la prevenzione primaria, nel senso che è molto importante, come dicevo prima, ridurre la circolazione del virus anche attraverso i comportamenti, non solo ma anche attraverso i comportamenti, quindi non solo perché ci sono i vaccini, però sicuramente il fatto di evitare assembramenti, di comunque nei luoghi chiusi portare la mascherina, cercare di comunque di avere una buona disinfezione, una buona igiene delle mani e questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché purtroppo non siamo ancora fuori dalla pandemia, quindi è la prima cosa da fare. Per chiudere, non dimentichiamo anche di farci vedere non solo per il Covid, perché c'è un tema importante che riguarderà ritardo diagnostico anche di altre patologie. Sì, 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 quindi no, sicuramente anche il fatto di andare in ospedale a fare esami è comunque importante, perché sicuramente al di là della paura che magari c'era più in precedenza di andare in ospedale e contrarre il Covid, è molto importante, visto tutte le misure di sicurezza, comunque seguire i propri esami che si devono fare. Grazie davvero a Dottor Sala, a queste pillole di essere benessere, alla domani. Grazie.